ma io credo che questa pandemia ci abbia insegnato che si può quando si vuole quindi io credo che il vantaggio di questa pandemia tra i molteplici svantaggi è quello che ci ha insegnato a fare delle cose straordinarie straordinarie non nel senso del nel senso del fuori dall'ordinario quindi noi ci ha insegnato a una maggior partnership questa partnership a livello proprio di ricerca ma anche istituzionale ha fatto sì che in brevissimo tempo arrivassimo a scoprire i vaccini non è mai così scontato e quindi io credo che sia una cosa meravigliosa perché se lei mi avesse fatto questa domanda un anno fa e mi avesse chiesto se credevo nello sviluppo dei vaccini io le avrei detto ci credo ma per essere realisti non lo so se ce la faremo in meno di un anno invece è questa la bella storia che dobbiamo raccontare che dobbiamo portarci nel futuro come insegnamento tutto quello che ci ha portato ad arrivare lì credo che sia un insegnamento fondamentale